Marcella Tinazzi porterà un po' di pesaro al Ministero. Sì, ho accettato questa proposta di collaborazione che mi ha rivolto il Ministro Bianchi, mi ha molto onorato questa proposta e cercherò di dare una mano in questa riflessione che il Ministro vuole fare su alcuni dei punti focali nella sua politica. Sì, userò tutta l'esperienza che ho maturato in questi anni di lavoro nella scuola della nostra provincia, quindi sì, forse un po' di pesaro arriverà in qualche tavolo ministeriale. Anni importanti nei quali Marcella ha ricoperto tutto il percorso possibile partendo, lo dicevamo a Casa Rossini, dai banchi degli elementari per poi salire, 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 passare attraverso 23 anni di dirigenza e poi arrivare ai 6 anni di provveditorato. Sì, devo dire che sono stata a lungo in aule scolastiche, cominciando appunto a 6 anni col fiocco e continuando poi a studiare, perché comunque è quello che facciamo tutti, no? Incarniamo il prototipo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Sì, ho lavorato tantissimo nella scuola, ho diretto molte scuole, è stata un'esperienza totalizzante dal punto di vista professionale, ma anche personale, perché sono cresciuta in ambienti estremamente stimolanti dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista umano. Mi sento molto ricca da quel punto di vista, veramente, è anche molto fortunata.